Nel Cinquecento la tendenza più diffusa a livello letterario era l'imitazione, un po' come nel periodo dell'umanesimo, quindi nel Quattrocento, si imitavano i classici latini, nel Cinquecento si imitano altri classici, Petrarca e Boccaccio. In particolare il fenomeno del petrarchismo, cioè dell'imitazione in poesia di Petrarca, è assolutamente rigoglioso e coinvolge una parte significativa dei letterati italiani, diciamo la parte più istituzionale. Ma a fianco di questi si pongono degli altri letterati che invece si oppongono in maniera netta e consapevole a questa tendenza, che ritengono vacua, quindi priva di significato, un mero esercizio retorico fino a se stesso. E entrano in polemica in vari modi, ce ne sono tanti, cioè Aretino, Folengo, quello che però è forse più noto è Francesco Berni, un pistoiese che vive nel Cinquecento e che tra le varie opere scrisse questo sonetto, Chiome d'argento fino, Irte a Torte, che è una presa in giro assolutamente esplicita di una, diciamo del petrarchismo e più nello specifico di un sonetto di Pietro Bembo, una parodia per essere più precisi. Questo signore è il pistoiese Bembo e qui canta una donna, una donna che però è assolutamente l'opposto di ciò che sono le donne cantate dalla tradizione poetica, quindi tutto l'opposto di Laurea, di Beatrice e di tutte le donne del petrarchismo. Perché come sono le donne della letteratura italiana degli anni precedenti? Beh, sono tutto uguali, sono bellissime, giovani, bionde, occhi o azzurri o verdi, verdi come Beatrice, gli azzurri sono un altro standard, E così sono dai tempi della letteratura cortese in avanti, poi lo sono così le stile noviste, le donne dello stile novo, Laura e quindi anche le donne dei petrarchisti. E lui dice, ma ci sono anche altri tipi di donne e qui ha un totale rovesciamento. La donna è vecchia e brutta e questo è un ritratto di Giorgione che opera negli stessi anni. Però è interessantissimo e divertentissimo come opera questa parodia, quindi non è solo un ritratto antifrastico, cioè rovesciato della donna petrarchesca, ma è anche bello come viene raccontato, cioè tutta una serie di metafore che rovesciano il senso ma mantengono lo stile. Cioè tutte le varie parti della bellezza, presunta bellezza di questa donna, sono paragonate a oggetti preziosi. Perché normalmente era uso rappresentare queste donne con dei tratti stilistici, non solo fissi, ma anche paragonati a qualcosa di bello e prezioso. Per esempio, erano i capelli d'oro Laura sparsi, i capelli biondi sono necessariamente d'oro. Al massimo sono paragonati al sole, ma non certo alla paglia per dire. Non so, il volto doveva essere bianchissimo e quindi color di perla. Quindi tutti questi elementi preziosi che vengono paragonati alle varie bellezze della donna. E qui il senso è lo stesso. Leggiamo un po' Chiome d'argento fino, irte e attorte. Chiome d'argento fino, irte e attorte, senza arte, intorno a un bel viso d'oro. Fronte crespa, umirando io mi scoloro, dove spunta ai suoi strali, amor e morte. Ecco qua, cominciamo da questa parte. Allora, i capelli sono d'argento fino, irti e attorte. Cosa vuol dire questo? I capelli sono d'argento e non d'oro, ma questo vuol dire che sono grigi, appunto, da vecchio. D'argento fino poi sono irte e attorte, quindi sono spettinate e tutte grumose. Quindi sono tutto il contrario dei dolci nodi di Laura, no? Che a dolci nodi è una citazione da Erne Capeidoro a Laura Sparsi. Qui invece sono irti e attorte, quindi sono dei capelli non solo d'argento, quindi grigi, ma anche brutti. Infatti è attorte, senza arte, intorno a un bel viso d'oro. È spettinata, senza arte, non si pettina, non si cura. È intorno a un bel viso d'oro. Ecco, di nuovo, l'oggetto è prezioso, l'oro, ma in realtà il viso giallo non è assolutamente attraente, è un viso malato. Quindi, mentre i capelli dovrebbero essere d'oro e il viso chiaro e bianco, qui abbiamo i capelli bianchi, anzi grigi, e il viso giallo. Quindi lei non solo è anziana, ma è anche malata. Fronte crespa. La fronte è rugosa, però crespa è un tipico aggettivo che usava per i capelli, per l'oggio dei capelli. Quindi Bernie utilizza il lessico dei petrarchisti per sostanzialmente parodiarli. Umirando io mi scoloro, guardando questa fronte io mi scoloro, io mi impallidisco. E qui è anche ironico, no? Perché era tipico, fin dello stilnovismo, impallidire di fronte alla bellezza della donna. Qui invece sembra impaurirsi il nostro autore, perché è talmente brutta che si spaventa. E qui spunta i suoi strali, spunta, quindi lancia inutilmente le sue frecce, amore e morte. Quindi lei è anziana, ma non vuole morire e evidentemente è anche refrattaria all'amore. E anche qui l'amore che lancia le frecce è assolutamente convenzionale come immagine. Ma qui c'è anche la morte, perché appunto lei è vecchia e non muore. Poi vediamo un po' come sono. Continuiamo la descrizione. Occhi di perle vaghi, luci torte da ogni obietto diseguale a loro. Ciglia di neve, quelle, un dio m'accoro, ditemam, dolcemente, grosso. E' corta. Quindi continua questo lessico assolutamente aulico per una... E' ironico perché racconta invece una realtà spiacevole. Gli occhi sono belli come perle. Però il problema è che gli occhi bianchi non sono assolutamente belli, anche se sono paragonati alle perle. Sembrano appunto che abbiano la cataratta. Quindi malati. Quindi occhi bianchi di cataratta. Luci, ecco, luci metafora abituale per indicare gli occhi, che sono torte da ogni obietto diseguale a loro. Non si capisce bene cosa vuol dire. Eleva il tono. Ma in realtà, se andiamo a vedere cosa vuol dire, che sono luci che non degnano di guardare null'altro che se stesse. E cosa sono due occhi che si guardano? Sono occhi strabici. Quindi lei ha gli occhi bianchi malati ed è pure strabica. Ciglia di neve. La neve, normalmente, bianchissima, era il colore dell'incarnato della donna, bianca e perciò bella. Invece lei ha le ciglia di nuovo bianche e quelle per cui io mi accordo, quindi per cui mi scaldo, dita e mani, dolcemente grosse e corte. Ecco, qui è meno fine, forse, l'ironia, perché, semplicemente, però c'è questo dolcemente che è in contrasto con le dita grosse e corte, quindi assolutamente il contrario di quelle lunghe dita affusolate delle donne belle della tradizione. E andiamo avanti. Labbra di latte, bocca ampia, celeste, denti debano, rari e pellegrini, inaudita, ineffabile, armonia. Ecco, che altro ha? Le labbra di latte, quindi labbra bianche, quindi malate, esangui, mentre il latte doveva essere il colore di nuovo del volto. Bocca ampia, celeste. Ecco, la bocca è, anche questa, malata, grande, mentre la bocca non doveva essere grande, quindi sgraziata, ed è celeste, azzurra. Eh, di nuovo, i colori sono completamente scambiati, no? La bocca, che dovrebbe essere rossa, è diventata celeste, come dovrebbero essere gli occhi, che invece erano bianchi. I denti debano, rari e pellegrini. Allora, l'ebano è un legno prezioso, che quindi veniva anche utilizzato a volte, diciamo, per negli logi femminili, ma non certo per indicare i denti, perché i denti devono essere d'avorio, quindi bianchissimi. Invece, qui sono debano, cioè nerissimi, perché sono cariati, marci. L'ebano, infatti, è un legno non solo prezioso, ma anche scurissimo. Poi sono rari e pellegrini. Ecco, pellegrini, ancora più che rari, è una parola elevata, ma in realtà vuol dire, appunto, che sono pochi. Quindi non solo a denti marci, ma ne ne sono rimasti pure pochi. E poi, inaudita, ineffabile, armonia. La sua voce è un'armonia, cioè un suono, inaudito, mai sentito prima, ineffabile, e che non si può ripetere. Tanto è spiacevole. E non è solo brutta, ma è anche antipatica, perché dice, costumi alteri e gravi. Quindi ha degli usi, costumi alteri e gravi. A voi, divini servi d'amore, palese fo, che queste sono le bellezze della donna mia. Quindi ha un comportamento superbo e spiacevole, grave. A voi, divini servi d'amore, divini servi d'amore sono gli animi innamorati, che fin dall'ostillovismo, anzi, da prima, sono gli unici che possono intendere la poesia. Quindi a voi, animi innamorati, rendo, palese fo, quindi rendo noto, che queste sono le bellezze della mia donna. Quindi non ce ne sono. Chiaramente, ironico, antifresi per essere precisi. Ecco, questo ritratto è evidentemente presuppone, per essere goduto appieno, la conoscenza di Petrarca e del petrarchismo. Ma ne dipende, ed è consapevolmente, un rovesciamento, una parodia. Ha senso in quanto tale. Un filone questo, in realtà, che ebbe un certo successo, anche in epoche successive, l'elogio della donna brutta diventò quasi un topos nel 600 e viene in qualche modo anticipato dal Bernie, autore dell'antipetrarchismo rinascimentale, devo dire, molto divertente.